Il prodotto vettoriale è un'operazione definita tra due vettori di tre dimensioni che dà come risultato un vettore. Consideriamo il vettore A e il vettore B entrambi di tre dimensioni e vogliamo calcolare il vettore C, prodotto vettoriale tra il vettore A e il vettore B. Conosciamo una regola che ci permette di calcolare questo prodotto vettoriale come determinante di una matrice di ordine 3 e precisamente della matrice che ha come prima riga i tre versori coordinati, come seconda riga le componenti del vettore A e come terza riga le componenti del vettore B. Svolgiamo i calcoli, quindi svolgiamo il determinante rispetto alla prima riga e otteniamo il versore I moltiplicato per il determinante della sottomatrice formata dalla seconda riga, terza riga, seconda colonna e terza colonna, quindi meno 6 meno 15. Poi procediamo sempre con la solita regola, meno il versore J moltiplicato per 24 meno 10 più il versore K moltiplicato per 12 più 2. otteniamo meno 21 meno 14 per il versore J più 14 per il versore K. Abbiamo così ottenuto il vettore C di tre dimensioni con componenti meno 21 meno 14 più 14. e quindi abbiamo ottenuto il vettore che ha la direzione data dalla perpendicolare il piano formato dai vettori A e B e come verso il verso dato dalla regola della mano destra. Ricordiamo che il prodotto vettoriale non è commutativo perché, poiché viene calcolato con questa regola, se non invertiamo le posizioni dei vettori A e B, commutiamo, si scambiano anche le due righe e quindi otteniamo un diverso risultato, cioè precisamente il risultato cambiato di segno. Inoltre, se questi due vettori avessero le componenti proporzionali, ossia fossero tra loro paralleli, allora avremmo un determinante nullo. Quindi il prodotto vettoriale di due vettori paralleli è uguale a zero.